Con le vittorie di Juventus, Roma e Milan negli anticipi, l'avvio della serata in Serie A è uno shock con il primo gol libico nella storia del nostro campionato, lo firma Ahmad Benali per il Pescara all'ottavo minuto, la formazione di Massimo Otto è in vantaggio, arriva anche la replica per il Pescara neopromosso, l'assist di Zampano, la conclusione vincente di Caprari che fa 2 a 0 al 35esimo minuto. Il Napoli cambia nel secondo tempo e si aggrappa come sempre alla verve part time di Tris Mertens, subentrato nel corso della ripresa, Mertens lavora il pallone servito da Valdifiori, cerca spazio al limite e trova l'angolino più lontano dove non può arrivare Albano Bissarri per la rete che riapre la partita al 59esimo, un'occhiattaccia alla panchina di Tris Mertens. Il Pescara vacilla e sulla sovrapposizione Cayetton Isai, il Napoli trova il gol del pareggio ancora con il belga Tris Mertens al 62esimo, ma finisce così, 2 a 2 all'Adriatico.